Notizia pazzesca! Kepler Wallet woof! Quando fa woof davanti è un cane e infatti Chihuahua Chain adesso sull'ultima versione di Kepler Wallet, sia mobile che da computer, ha integrato Chihuahua Chains ti ricordo che il nodo AC69 è un nodo validadore di Chihuahua e con la Bullrun, con l'alt season alle porte perché sì, dovrebbe, i grafici ci dicono così, che dovrebbe arrivare l'alt season, i meme coins sono una di quelle categorie da avere nel proprio portafoglio perché? Perché sì, non hanno utilità, sono simpatici, non servono a niente, spesso e volentieri schizzano alle stelle Chihuahua Chains, cioè Chihuahua, è un meme coin su cui farci un pensierino se ti va, delega il nodo AC69, Crypto Trading, i tuoi Chihuahua e Swap, i tuoi token, direttamente da Kepler Wallet pollice all'insù e condividi, ciao, amico della banda!